Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e oggi continueremo a giocare Resident Evil 3 Remake Allora ragazzi, sono andato a prendere il fucile a pompa, eccola qua, perché ovviamente per sbaglio ho consumato quasi qualche foglietto Vabbè, comunque dopo di aver fatto questa cosa, mi faccio un altro video, adesso dobbiamo aprire questa porta e andiamo avanti con la storia Sede la UBCS? Sì, fai piano Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto Ok, fammi vedere No, no, aspetta tanto Ecco qua, al posto Che cazzo hai fatto? Era infetto Ma non potevi saperlo Che rammolliti gli stars Ecco perché siete quasi tutti morti E tu chi cazzo sei? UBCS, vi ammazzate tra voi Si sarebbe trasformato Ha intenzione di morire giovane, per caso? Sì Torna subito alla stazione della metro Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti Vabbè, non dura Fai forte, fa Diario di allenamento Comunque Ma non è Stava lontano via Avviso di elettricità L'uso comune del generatore di coapenta Associata agli elettricisti di queste sedi A caso della continua interruzione di coapenta La nostra sola zona ha deciso di installare Del generatore elettrici per tutta la città Così da essere utilizzabili liberamente e regolarmente Tuttavia nessuno necessaria prestare grande attenzione All'elevato voltaggio con cui opera la massa Se questi venissero per caso colpiti da un proiettile vacante Chiunque si trovi nelle vicinanze Riscrive il diritto di materiale fotografico C'è una nota scritta a mano Nel caso in cui il generatore dovesse iniziare a emettere scariche elettricche Si raccomanda di non avvicinarsi al solare La propria sicurezza viene prima di ogni altra cosa I generatori possono sempre essere sostituiti Voi no Se usciremo vivi da questo disastro Avrò un bel po' di generatori di coapenta Da vedere a pezzi di coapenta Avviene a pezzi di coapenta No, i cagni no, li pego No Fai un cappettare Un cappettare Un cappettare No, cazzo Aspetta Un cappettare 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 zombie e te la bella faccio qualcosina mi servono come panna ma io volevo soprattutto un qualcosino siamo arrivati a questa merita di centrale finalmente posso essere attivata corrente però penso che ci sarà qualche enigma ragazzi penso io quasi quasi uso pompazza non me ne volete ragazzi ma io uso pompazza ecco anche qualche il caso di sfide è la pancola mamma da la nostra Jill non posso metterla vabbè dai e nient'a questa è la stanza per i giorni d'errore vediamo che dice qua allora prima innanzitutto salviamo la partita ragazzi non si sa mai non si sa mai comunque poi andiamo qua lasciamo questo cos'è questo? borsello forse è il borsello più grande eh sì eh sì 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 benissimo 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 poi io andiamo qua attacchiamo anche la la nostra piantina ehm questa attacchiamola qua andiamo qua a trovirti giù poi attacchiamo così senza oi dove cazzo devo andare qua ok ma io non andavo qua e dove così no no ok io non devo fare niente mi sa possibile scendi piano piano mi raccomando scendi piano piano giro ecco qua ci sono tutte queste piantina ragazzi c'è un motivo vabbè usate le piante non vedevo tornare ma io quasi quasi ragazzi solo una me ne porto poi magari dopo avendo l'altra in caso ok ma faccio così beh mi avendo due fammi che dice qua ah ok allora facciamo allora facciamo una cosa facciamo una cosa attacchiamo tattica ragazzi andiamo qua oh madonna si è infettata ragazzi oh madonna parassiti eh ok fatto così oh madonna mi sa più di salentire sta cosa ragazzi che ti resentivo oh madonna dove cazzo porca puttana forza forza ah ca puttana ecco a due ecco a due ecco a due Eccola da là Dovevo prendermi la cazzo di piantina Porca puttana Porca puttana No cazzo cazzo Questo è uno Eeeh vabbè dai Non va bene ragazzi non va bene Porca puttana Non sta acido mamma Muori Pezzo di merda Là c'è un'altra piantina di merda Ok E chi esce dopo? Dovevo prendermi io Va bene guarda qua Va bene su Do cazzo sta a piantina Ecco la Ti serve come pare Ecco l'altro ruolo Già chi è? La profettiamo no? Cazzo è sta cosa Ma il cattito odio A punti di giad Che c***o C***o sta c***o Che c***o Guarda che vuole la p***a Fatto Ora andiamoci Eh si vittoria il giallo Ah p***a di sua sorella Quella tantissima lourda Eh baffanculo Dove c***o devo andare adesso? Dai dai Gil dai Non lo puoi fare? Dai Gil dammi te l'urde C***o No lo puoi fare Oh no Sheri Ma sta free Dai C***o Dai Dai No 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 Cazzo punta puttana Quanto avanti Dai ragazzo Vedo Non penso ragazzi Annaggia puttana dietro Dai cazzo Puttana Mamma che bastanza E così devo fare ragazzi Devo andare in tutto Ma dove cazzo era Sto girando in tondo A meno No No Era di qua Dove cazzo Era l'uscita No ragazzi Tu video esce un po' lungo Vabbè Pazienza Pazienza Sto perdendo tutta L'energia Che cazzo E qua Ecco qua A me anche io non sto girando in tondo Fanculo vuoi E vabbè Eccola No Non è di qua Eh Allora ragazzi E allora ragazzi In questo caso Avviamo la partita Ci siamo Allungati Come bestia Prendi questo Eccetto che lei Comunque sta un po' male Leggermente male Ragazzi Allora ragazzi Intanto Spero che comunque Che video vi sia piaciuto Come sempre vi chiedo ragazzi Se volete iscrivervi Lasciate un bel like Ciao ragazzi E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video